bene sì ragazzi allora da ieri non si ha proprio l'ufficialità ufficiale ufficiale al 100% ma così replica la gazzetta tutto sport di marzio sport italia eccetera eccetera giuntoli si è liberato da napoli e sarà il nuovo direttore sportivo della juventus e all'improvviso questo giuntoli non è più nessuno all'improvviso questo giuntoli non è più nessuno non è buono è diventato un ladro un traditore per i napoletani per i milanisti non è mai stato nessuno conosco un mio amico che è che tu dica fa favole champagne proprio a livelli pierino a livelli alvaro vitali proprio conosco un amico mio che tu dica fa conosci tutti quanti coppa facebook talmente rifiuti in merda che sta facendo che dice che giuntoli non è nessuno all'improvviso giuntoli non è nessuno è l'unico al mondo è l'unico al mondo vabbè alvaro vitari pierino alviano colpisci ancora cos'è ci chiamano zaporito colpito vabbè lasciamo sta all'improvviso giuntoli secondo questi tifosi sia napoletani interisti che ci sta pure nata amico che tu dica fa giuntoli e sopravvalutato ma l'anima vabbè lasciamo sapere con certe cose robiti tagli il vino vabbè lasciamo io capisco lo sfottò la risata posso capire sbagliare un pronostico come io l'hanno scurto città ai vento se mi dicevo scudetti i vinti puntano anzi ci può sta ci può sta ma ci metto la faccia ma dire che giuntoli è sopravvalutato frate mio si andano pochi di fede in merda vabbè questo è un altro discorso ma senta certa gente che giuntoli è sopravvalutato perché perché se l'è preso la juventus e champagne apriti popolo cioè aprimo spumante champagne bottiglie di vino apriti tutto perché veramente il rosicare è brutto io capisco essere tifosi odiare la juventus ma fino a un certo punto perché se io all'improvviso dico che marotta non è no buono di esse capisci che sarò preso per il culo da per tutti perché la juventus i suoi problemi li ha creati proprio mandando via marotta cioè è come se io tifoso della juve all'improvviso dico è più forte giuntoli di marotta o addirittura marotta non è nessuno giuntoli è numero uno e no e non si fa così marotta rimane di esse fuori classe per quello dimostrata la juve quello dimostrata l'inde la scia sa che ha vinto che non scudetto mi pare o addirittura solo una capitale non fa niente però sono comunque trofei sono comunque trofei ok ci sta marotta carnevali giuntoli ci sta marino che mi piace assai capi questi sono di essi che i palle se voi volete fare i tifosi antisportivi questo è un altro discorso perché io non posso vedere che l'inter acquista turam è uno fenomeno a juventus acquista wea non è nessuno o milan acquista loft chic mcdonald e perché è nito perché è di colore e tenuto 40 centimetri viene portato in cielo questa cosa non mi sta bene capi bisogna essere obiettivi turam sì l'abbiamo visto bel giocatore l'abbiamo visto là sì l'abbiamo visto in italia no quindi partino tutti tutti turam eh wea e loft chic 00 00 anche se statisticamente è normale turam l'abbiamo già visto ok forse per adesso come acquisto sta vincendo l'inter per adesso poi il resto è stato salato bisogna essere obiettivi e sportivi perché sennò giuriti giuriti proprio facebook non faciti i figuri e merda ciao belli non ne faciti proprio i figuri e merda perché queste sono figure di merda parlo in generale napoletano milanisti indaristi ma vabbè ha già fatto l'esempio di saporita e cioffiche vabbè e tutti che fa saporita ha detto che giuntoli non lo conosce ci mancherebbe si conosceva giuntoli te la facevi con me lì vabbè qui lato la giuntoli sopravvalutato vabbè giù vabbè giù vabbè finì o no